Beh a fioi, io sono Lollipasterx e bentornati nel mio canale. Con questo breve video volevo annunciarvi che stasera, alle ore 21, ci sarà la mia live. E con me nella live ci saranno ospiti a sorpresa che decideremo insieme al momento. Detto questo, io vi chiedo di rispondere al sondaggio di Straupol sotto in descrizione e al sondaggio qua su YouTube. Per vedere quante persone ci saranno a vedere la live stasera. Detto questo, io vi dico adios!